C'è Gioana de Balossest, bravo, eh? Fatto sotto, bugio! Tiè! Oh, c'è Pumino scaffato! Oh, è Gioà! Gioà, rispone! Mi sento Gioà! E qui io l'ho dato a Torto Balossest! Gioà, tiè Buongiorno è questo, è un appizio da film. Questa è un'altra zonazione. Questa è un po' di mettere la comandata. Oddio, ci ha compagno da dare. Adesso. C'è di giustare più buongiorno?